Signora, sì signores, bienvenidos! Comunque, come potete aver capito, ormai non si parla più di mega evoluzioni di Upa, ma di forma alternativa. Infatti, adesso c'è la conferma, non si tratta della mega evoluzione, ma di un cambio di forma, ossia una forma alternativa del Pokémon. Infatti, sempre questi mostri del Pokémon Project, che analizzano il codice della demo, che ricordiamo è il gioco normale, ma con tagli di codice, sono stati proprio pezzettoni di codice che sono stati presi e buttati, e sono rimasti comunque sia dei spazzoni. E come abbiamo potuto vedere, da questa immagine, insomma, ve lo ricordate, cliccate qui se volete vederla, insomma, si è ipotizzata la presenza di mega Upa, ma in realtà questa non è proprio una mega evoluzione, perché insieme al codice di Upa è stato scoperto un nuovo strumento, che è, appunto, come potete vedere nell'immagine, non è il mega braccialetto, come potete vedere qua, ma è stato selezionato lo spazio vuoto, perché nel codice, giustamente, sono state tolte parti, tra cui il nome, perché, insomma, sarebbe stato troppo facile. Quindi hanno scoperto il codice, l'hanno attivato, e ovviamente hanno trovato il fatto che non c'era, che non ci poteva essere scritto niente, e quindi hanno lasciato vuoto. E come potete vedere qua c'è una nuvoletta Che cosa vuol dire? Che una volta attivato Non so esattamente se è attivato oppure dato Oppure assegnato Grazie Ha assegnato questo strumento Insomma la modalità, il meccanismo non si sa Molto probabilmente assegna Ma vedete questa nuvola Che cosa vuol dire? Che una volta utilizzato questo strumento Il Pokémon cambia a seduta stante Quindi non c'è bisogno di avere il... La possibilità di andare a fare una battaglia Quello cambia immediatamente di forma E cambia ovviamente immediatamente di abilità e cose del genere Purtroppo qui abbiamo a disposizione La sua immagine perché il video Non so perché oggi YouTube non ce lo fa vedere Guardate Attiviamo Flash Mettiamo Play Se è stata tutta una giornata a fare così Ho deciso di fare la news comunque Perché insomma mi pareva il minimo Che voi veniste a conoscenza di questa news In poche parole esiste UPA Esiste una forma alternativa di UPA Ed è caratterizzata da proprie caratteristiche Proprie abilità E versi diversi Cioè versi proprio Il verso che fa il Pokémon è diverso E molto probabilmente In caso sarà molto probabile Simile A questa forma Che vediamo qui in basso Insomma Quella che abbiamo visto Nella news precedente Allora signori e signori Questa era la news Se vi piaceva Mega UPA Molto probabilmente Ve lo dovete scordate A meno che non cambiano il codice Al volo prima dell'uscita Ma penso di no insomma Comunque sarà comunque fantastico Lo stesso Questo UPA In versione alternativa La news è questa Ci vediamo alla prossima Yuhuuu Allora signori e signori e signori